Con noi, sembrava già partiti bene quest'anno. La seconda cosa dà fastidio, il comportamento che affarina, visto che è responsabile degli abiti, visto che sei di 9 rigore, non voglio dire di favore, però almeno chiedere un arbitraggio. No, lui favorisce la novese. Sì, va bene. La novese va a vencere il campionato. Vai, Galia, vai dentro, Gibi! Se questo si gira... Bravo, Galia! Rocco, vieni sopra, fanno un movimento, lui viene dentro e lui parte, sopra là. Vai, vai, vai! Buona questa, buona! Cambia! Vai! Ma no! Galia! Bravi! Sì, che va! Sì, che va! Dai, dai, dai! Bravo! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.